Perché noi diciamo no a questa riforma? Perché è una delle tante finte riforme di Renzi, non sono state chiuse le province, non si chiuderanno le province, non si chiuderà il Senato, si creerà un baraccone che non sarà paralizzato e non sarà efficiente. Perché tutti i costituzionisti più importanti d'Italia, a cominciare dal Presidente a merito della consulta, De Siervo, che un tempo era l'ispiratore del pensiero costituzionale del Premier Renzi, ha bollato come non soltanto inefficiente ma addirittura deleteria questa riforma. Non si sconvolge il rapporto tra enti locali e regioni con lo Stato centrale, di cui anche giustamente l'ascesa in campo dei consiglieri regionali ebruzzesi e degli amministratori locali. Si creerà un tale sconquasto come quello che è stato fatto con la finta abolizione delle province.